E' un po' grave, grave. Qua sotto è più grave ancora. Qua magari ancora si può stare, però è molto grave, va. Tutto il quartiere qua si sta portando. Qua sotto tre, quattro case li sta tirando. Non c'è niente da fare. Ieri era poco a poco là e oggi qua c'è tutto... Non abbiamo vertito niente, c'è stata una flana qua sotto in campagna e da tre, quattro ore arriva fino là, tutto il paese si tira. Fino là sotto. C'è la chiesa, è tutta spaccata. Le case popolari qua sotto. Ci sono le case popolari, tutto sfollato qua. Questo pezzo così, tutto sfollato. Ma no così, tu basta, in campagna c'è stato un po' di flana, ma no tutta sta cosa qua. Vedi come è qua, vedi? Vedi che c'è qua. Questo, questo che è? Niente, se scende là sotto, vedi cosa c'è là sotto. Questo quanto? Grazie. 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 E poi come si è di più. No, no. Noia. Grazie. Grazie. Un pochettino in evoluzione, perché la frana si muove in modo anomalo, perché sta prendendo diversi versanti. In modo particolare più a valle del paese ha interessato parte del centro abitato e soprattutto anche una piccola chiesa dove sono state portate via pure quello che c'era all'interno e adesso, ieri sera di fatto abbiamo messo qua un punto di riferimento.